Benvenuti a tutti, eccoci qua, benvenuti, benvenuti a Giuseppe, benvenuti a Ellen, benvenuti a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao, questa è una prima introduzione, non l'abbiamo mai fatta alle otto, ciao Mike. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. A te, Mike, tu ti puoi anche riposare fino, come ti ho visto, fino alle otto e trenta se vuoi, perché Mike e Marcos arriverà alle otto e mezzo. Perfetto, allora sappiate che sono online, io mi stacco temporaneamente e poi rientro poco prima. Sì, sì, così almeno stai tranquillo. Grazie a te Giorgio, ciao. Quindi facciamo questa introduzione sulle linee guida per i nuovi, per quelli che poi si approcceranno a questa straordinaria possibilità di utilizzare questa tecnologia S-Drive. Come ho detto, poi alle otto e mezzo ci sarà Marco Stento che farà la lezione proprio sull'interpretazione clinica. Io mi limiterò alla tecnica e alle linee guida che sono veramente importanti per capire come possiamo approcciare al meglio questa interpretazione dei report. Partiamo da questo presupposto e così andiamo subito alla condivisione di quello che a mio avviso non dobbiamo dimenticare. Quando noi lavoriamo sull'interpretazione della tecnologia S-Drive, dobbiamo tenere presente alcuni aspetti. Innanzi di tutto, per chi è medico, per chi è nutrizionista, per chi ha a fare con la salute, e parliamo anche, visto che ci sono dei veterinari, parliamo anche dell'approccio che possiamo avere in ambito veterinario, e è chiaro che oggi, sempre di più, le malattie sono multifattoriali, multidisciplinari, sono anche i rimedi che noi dobbiamo tenere in considerazione. Se noi solo pensassimo a quello che è il danno ambientale, il danno da inquinamento, beh, dico pensassimo perché oggi ho avuto, vi dico, sono molto entusiasto, felice, e non sto più nella pelle perché il mio nipote, il figlio di mio fratello, si è laureato in medicina poche ore fa a Bologna e con 110 e lode. Ho assistito alla sua relazione, quindi pensate, mi sono alzato stamattina alle 6 e andato là perché avevo da lavorare questa mattina a Bologna, e poi di corsa sono arrivato qui, insomma da voi, sono arrivato praticamente 20 minuti fa, a pelo, e ho assistito a due relazioni. Bene, in queste due relazioni effettivamente ho detto, ma qui come è possibile che in un ambito di una tesi di laurea non si tengano in considerazione le cause, le concause epigenetiche, i reali rischi congeniti, di quello che è la patologia. In questo caso parlava di tumore, un epatocarcinoma, un tumore al pancreas, eccetera. Si parlava solo di diagnosi, quindi di strumenti di diagnosi e poi di terapia. E la stessa ammissione era quella che comunque di aspettativa di vita era molto bassa. E quindi io dico, ma com'è possibile che comunque si stanno rendendo conto di questi studi? Lui ha presentato una tesi su uno studio clinico fatto su pazienti con patologie così importanti e non si è minimamente accennato a fattori epigenetici, reali rischi congeniti, disfunzione mitocondriale, infiammazione, danno ambientale, costituzione dalla nascita. Cioè non si tengono in considerazione queste cose. Quindi la medicina sta sempre più, come ho visto, perdendo la clinica. Poi se avete un'altra opinione sono a vostra disposizione per discutere di questo. Ecco, partiamo da questo presupposto. Sono felicissimo perché ho visto veramente una relazione, vi dico, straordinaria, anche come comunicazione, quindi complimento, 110 lode, poi qualcosa di grande, però manca questo. Quindi noi, probabilmente voi professionisti, avete il compito di colmare questo gap enorme tra la malattia, ma soprattutto prima della malattia, la prevenzione e di tenere in considerazione tanti aspetti. Oggi come oggi, c'è ben pochissime opportunità per fare vera prevenzione. Se noi partiamo dall'esame, molti di voi lo sanno perché si occupa di medicina integrata, dall'omeopatia all'omotossicologia, alla medicina quantistica, a varie forme di terapia, ma da un punto di vista poi di prevenzione, adesso c'è di moda il DNA, il test del DNA, che dico, va, interessante. Però se poi la scienza mi dice che quello fa parte del 2-10% della nostra salute, ovviamente il resto dell'80% che consideravamo prima dell'epigenetica DNA spazzatura, ne dobbiamo tenere in considerazione l'80%. E ancora una volta mi domando, dico, ma tutti noi dovremmo farci questa domanda e riflettere su quello che c'è sul mercato e dire ma che strumenti oggi ho a disposizione per capire cosa stia succedendo a livello cellulare? In un approccio clinico integrato, che strumenti ho? O meglio, poi, che strumenti ho e che biomarker uso? Perché poi il ragionamento deve essere fatto lì. Come faccio a tenere in considerazione tantissimi strumenti che sono probabilmente utili, importanti, ma che nello stesso tempo poi non hanno il biomarker giusto, affidabile, per i fattori epigenetici. Stiamo parlando di epigenetica, non di fare una diagnosi di malattia per vedere se il fegato non sta bene o il cuore. Sto parlando di cellule, sto parlando poi che dalle cellule vado agli organi, vado ai sistemi. E quindi ecco che io oggi, probabilmente, grazie all'S Drive, posso colmare questo gap che è fondamentale, a mio avviso, in un approccio clinico integrato per un professionista. Sicuramente siamo di fronte a una tecnologia rivoluzionaria. Uno dei più grandi esperti di metabolomica, 154 pubblicazioni scientifiche, l'ho incontrato un mesetto fa a Cagliari, è il professor Fanos, sapete, ha scritto Metabolomica e microbioma, un libretto veramente interessante. mi ha detto Terziani, il futuro è sicuramente, lui è un uomo di 70 anni, 67-70 anni, anzi no, 70 e più, mi ha detto Terziani, il futuro è affidato, poi lo vedremo, a quelle persone che utilizzano nella clinica anche l'intelligenza artificiale. proprio per questo fatto che io vi dicevo, che le cause sono così tante, multifattoriali, che noi non abbiamo la capacità per arrivare a così tante cause con cause di un problema di salute. basti pensare, no, all'emozione, al tutto discorso della psiconeuroendocrinologia. Ebbene, allora cosa è possibile fare oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute del paziente, quali cause e con cause, quale strumento abbiamo a disposizione per valutare questi fattori, e quanti sistemi conoscete che sono in grado di dare un'informazione così completa. È chiaro che se siete qua è perché avete deciso di utilizzare una tecnologia come S-Drive. Però vedete, la tecnologia S-Drive, perché è così avanti? Ed ecco perché vi do alcuni suggerimenti, se permettetemi di, ecco, ragioniamo anche insieme su questo, sul fatto che c'è sicuramente un problema legato alla produzione di ATP a livello cellulare, dovuto a una carenza di ossigeno, o non arriva l'ossigeno, o c'è un problema mitocombiano. È un apporto di idrogeno, tenetelo sempre presente. C'è una disfunzione del DNA nucleare, che non viene mai tenuta in considerazione, il danno microcircolatore, il danno agricocalice, la membrana cellulare, il danno endoteliale, le carenze di vitamine, di aminoacidi, no? Queste tutte cose che voi conoscete. Ma quando io capisco, con un esame magari sul sangue, che c'è un problema, il problema è nato molto tempo prima. Prima c'è un danno cellulare, c'è una disfunzione mitocondriale, c'è magari un'acidosi tessutale, c'è un problema al microbiota, poi alla fine gli organi non ce la fanno più, dalle cellule agli organi, gli organi. E vediamo poi le cose nel sangue. Quindi probabilmente, questo non esclude nell'esame del sangue, nessun altro tipo di esame, sto parlando di prevenzione, di supporto, penso che questa sia una bella strategia da fare, visto che l'epigenetica è sopra. appunto, quindi come uno screening iniziale per capire quali sono le priorità di intervento. Non è un test di diagnosi, ma è un test che si fa ragionare. Quindi, se parliamo di vera prevenzione, di supporto, penso che diventare saggi, divenire saggi è qualcosa di interessante, come diceva Einstein. Allora, ecco l'approccio, come sempre diciamo, personalizzazione, beh, un report personalizzato, individuale, di quella persona, di quello che lo sta danneggiando e quello che gli serve per far funzionare in maniera ottimale cellule e sistemi per rimuovere le tossine predittiva, preventiva, partecipativa, perché coinvolgo il paziente, il cliente. Ed ecco, fondamentale, questi indicatori che voi conoscete così bene. Grazie a questo biomarker che è il bulbo del capello. Ormai, lo sappiamo, è un biomarker, il bulbo ancora di più, ma soprattutto dovete tenere presente anche che questo è un test non in vitro. Cioè non prendete il campione e lo mandate dall'altra parte del mondo o in un laboratorio. No, voi lo fate lì nel vostro studio. Quindi è un test in vivo, non in vitro, perché la scansione si fa ogni, entro tre minuti. Questo è un vantaggio veramente straordinario per chi si occupa di un approccio clinico integrato di prevenzione e di supporto. E ci sono, come sapete, vari report da utilizzare. Sistema immunitario, il metabolomico e il metabolismo, il report per rigenerare le cellule, il report sullo sportivo. Vi dico già, vi anticipo, che Marco Stenton, che segue le squadre di calcio Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera, ha accettato di essere con noi il 2, il 3, il 4 febbraio a Bologna al corso di formazione con Marco Stenton, Monica Greco, Bartolomeo Legrini. Saranno giornate, veramente, quindi iscrivetevi, perché sarà un evento storico, perché ha la tecnologia S-Drive. Quindi, cosa dobbiamo tenere conto? Dobbiamo tenere conto che questo test normalmente si fa ogni 90 giorni. Voi potete anche utilizzare un questionario, stamparlo, quel questionario che è nel report, magari stampate anche quello a 30, 60 e 90, quindi 3, 4, 5 questionari, a mio avviso da un punto di vista di marketing e supporto e feedback e fidelizzazione del vostro cliente e paziente è fondamentale, perché gli dite mentre aspettate il report gli fate compilare il primo questionario, quello del giorno 1 al T0 e poi gli dite guarda, compila ogni 30 giorni questo questionario. È un'arma straordinaria per coinvolgere in paziente e cliente e in questo frangente i 90 giorni come si dice sempre Marco sono necessari a rigenerare e avere nuove proteine perché c'è un rimodellamento della cromatina, nuovi enzimi, nuovi ormoni, nuove cellule, nuovi tessuti. Naturalmente per i medici che si occupano di patologie non si può fare ogni anche 40-45 giorni se c'è una patologia importante. Negli sportivi lo fanno ogni 30 giorni anche perché hanno un metabolismo allenamento ad alto livello, molto alto e quindi gli fanno fare il test nella preparazione anche ogni 30 giorni. Una volta mi dissero anche ogni settimana di allenamento però mi sembra un po' esagerato. Poi lo chiederemo a Marco e Esteban quando sarà qui in Italia. Quindi S-Drive è progettato per operare come una guida, come navigatore, come un GPS. Se voi oggi volete andare in qualsiasi città usate il vostro Google Map o il vostro GPS della macchina per farvi portare lì. A parte se sbaglia le strade ma sicuramente non sbaglia l'obiettivo questo in cellulare. Se è aggiornato bene non sbaglia ma vi dice guarda dall'alto voi siete sopra la città e dice guarda la chiesa è là lo stadio è là il comune è qua voi capite subito dove andare se avete un obiettivo. Quindi questo report non è uno strumento di diagnosi il diagnosi da qua il medico ma ci permette proprio di capire i bisogni della persona. Ora questa tante volte l'abbiamo fatto l'abbiamo detto sul fatto che gli esami i ricordicidi l'invito sono gerati in sacro grado della professione medica ma alla fine tutti gli esami vengono prescritti per quella malattia e per escludere quella malattia. Ti faccio fare questo esame per escludere che tu abbia quel problema. Però pochissimo si fa per capire i bisogni che hanno le cellule per vivere in maniera ottimale e quello che danneggia la cellula. il grande vantaggio della tecnologia S-Drive unica al mondo è capire quale tipo di interferenza dei campi elettromagnetici sta danneggiando la nostra cellula. Cosa sta succedendo a livello dei metalli pesanti di idrocarburi di sostanze chimiche della sensibilità come avete visto al glutine quanto ne trovate i post-virus quindi qualcosa di veramente importante ma il vantaggio enorme è di avere questi dati in soli 12 minuti quindi in fase di analisi faccio il test appena arriva ogni persona che entra nello studio deve fare il test quando si siede se avete un assistente sicuramente ancora più veloce quando si sederà davanti a voi vi arriva nello stesso tempo nella vostra e-mail o nel vostro software il test che avete fatto e quindi farete le vostre valutazioni in fase di analisi tra quello che dice e quello che pensate e quello che vi dice il record quindi la possibilità finalmente di incrociare i dati questo ormai è chiaro lo conoscete teniamo in considerazione questo questo fatto spesso siamo sulla ruota dei cricetti io amo questa immagine perché si fa capire veramente che se non allarghiamo la nostra capacità le nostre conoscenze se abbiamo fatto sempre continuiamo sempre fare le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati questa è una massima ormai comune però amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino guardate oggi vi ho fatto qualche vi ho portato qualche immagine importante oltre a quelle che di solito faccio vedere perché sempre più mi rendo conto che manca questa manca il tenere conto di quanto sia fondamentale tenere in considerazione la salute dei padri delle madri prima del concepimento probabilmente in medicina si dice così no? probabilmente abbiamo anche una grande responsabilità di utilizzare questo strumento per andare a vedere nelle donne che vogliono avere magari un figlio e proprio l'altro giorno ero con la Simona Nava la grande dottoressa Simona Nava sapete ginecologa a Telecolor e proprio mi diceva Giorgio quanto questo strumento la stia aiutando nell'aiutare le persone che vogliono avere un bambino e quindi in questo momento scarichiamo un'app che si chiama Avita e quando si toccano questi due straordinari cellule scarichiamo e grazie al grande dono della madre riusciamo a mettere al mondo un essere umano quindi è una responsabilità importante sappiamo che c'è un'intossicazione progressiva del liquido seminale maschile che sta portando all'infertilità al 60 70% in Europa sappiamo che stanno nascendo sempre bambini prematuri sappiamo che le malattie croniche degenerative sono in aumento fino al 40% allora noi non possiamo più continuare a continuare a contare malatti dobbiamo parlare di prevenzione dobbiamo unire le forze ecco questi sono due libri importanti metabolomica micobrioma batteri pionieri pilastri e salute ve li consiglio perché guardate sembra la storia di S-Drive leggere questo libro io mi sono emozionato di là poi dall'aspetto medico sicuramente importante ma parliamo di intelligenza artificiale parliamo di metabolomica parliamo però di un aspetto che se ci ragioniamo la metabolomica è il risultato dell'epigenetica quindi se io incomincio e anche il microbioma è il risultato dell'epigenetica la disfunzione mitocondriale è a monte di tutto quello che è il reale rischio congenito come l'ipossia la carenza di ossigeno l'infiammazione carenza di ossigeno acidosi acidosi stress sedativo stress sedativo infiammazione quindi noi dovremmo cominciare a parlare di queste cose fattori epigenetici disfunzione mitocondriale carenza di ossigeno cosa stiamo facendo però andiamo sempre non a valle non andiamo a monte e come ci insegna questo studio questo è uno studio chiedetemi se volete se volete leggere questo è uno studio dell'istituto dei medici per l'ambiente virus batteri trauma ci dicono che questo è il problema che aumenta lo stress nitrossativo e ossidativo di cui ci parla sempre Marcus ci aumenta il danno mitocondriale la carenza di ATP aumenta l'infiammazione e aumenta la malattia e allora dobbiamo ragionare cosa stiamo facendo per conoscere tutti questi fattori che ormai aumentano la sensibilità chimica multipla e le persone elettrosensibili e sapete anche molto sensibilità al glutine e stress quindi sovraccarico renale stress adrenergico stress emozionale intossicazione continua additivi alimentari pesticidi cosa stiamo facendo se parliamo di aspettativa di vita per rimettirare il DNA perché se mi manca la B12 perché gli do la B6 ecco le priorità di ragionamento perché poi è chiaro che voi medici clinici professionisti voi dovete ragionare su quello che è meglio fare però è chiaro che magari c'è un problema di carenza di metilazione magari potete approfondire con omocisteina con fare un esame dell'omocisteina potete approfondire con se c'è una post virosi con tutte le IgG per vedere se effettivamente c'è un Epstein-Barr c'è un citomegalovirus o un Erps eccetera una riattivazione ma se manca la B6 perché gli do la B12 e poi quanti professionisti tengono in considerazione tutti questi fattori un insieme è chiaro dal punto di vista emozionale poi ognuno fa il suo lavoro nell'apnei eccetera però poi ci sono tutte quelle carenze intossicazioni ambientali e sì emozionali chiaro che mi condizionano la telomera partendo dal fatto che pochi conoscono che il mitocondrio è un riprogrammatore epigenetico quindi se c'è non c'è una salute mitocondriale ottimale è un problema soprattutto a livello di DNA mitocondriale se voglio contro l'omocisteina se mi manca la B6 non gli posso dare la B12 o la B9 gli darò la B6 gli darò l'eserosimetionina oppure indagherò su un problema di MTHFR eccetera eccetera queste sono idee che cerco di trasferire e infatti grazie alla professoressa FEM stiamo lavorando a questo progetto importante per utilizzare questo con l'università di Sassari per utilizzare anzi è già partito lo studio stiamo utilizzando questo test per lo studio sui centenari nella Blue Zone direttamente a perdas del fogos quindi tra l'altro è arrivato anche in grande Marcus quindi tra 10 minuti Marcus 10-15 minuti do la parola quindi il discorso qual è? il discorso è che noi dobbiamo tenere proprio presente questo cioè della contaminazione ormai della vita attraverso il feto e l'allattamento ma poi nei primi mille giorni di vita cosa facciamo i ragazzi? Cosa facciamo nei primi duemila giorni di vita dove c'è anche una programmazione del connettoma stiamo 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 sprogrammando la vita a livello fetal ecco che ancora una volta la tecnologia S-Drive a mio avviso è uno dei strumenti più straordinari al mondo in grado di lavorare qui in grado di evitare poi lo vedremo ma a mio avviso facciamo molto se incominciamo a togliere l'inquinamento fare prevenzione se le morti premature sono causate dall'inquinamento e questo è un'immagine guardate l'epigenetica nei primi mille giorni di vita guardate che dolce queste immagini che spettacolo quindi la prevenzione è cura è certo prevenire è meglio che curare e questo è quello che sta accadendo 40% della popolazione cioè 24 milioni di italiani 12.5 milioni con multimorbilità ha malattie soffre di malattie croniche cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi e sappiamo che questo è aumenta il PIL c'è poco da fare business pazzesco per tenerli malattie allora c'è un altro problema 1 su 36 oggi nasce un bambino con predisposizione all'autismo un bambino su 6 tra i 13 e i 17 anni ha avuto la diagnosi di abilità dello sviluppo e questi sono i dati ufficiali National Interview Service dei USA e allora cosa vogliamo fare insieme e poi tantissimi altri dati importanti sull'Alzheimer la demenza guardate previsti 152 milioni entro 2050 in Italia sono oltre 1.500.000 la nascita dei bambini con problemi congeniti gravi aumento dei tumori soprattutto una persona su due fra gli uomini e una su tre fra le donne questo è quello che ci stanno regalando questo è un altro studio importante su aumento del tumore carcinomarenale con noi vogliamo parlare di aspettativa di vita di qualità della vita di prevenzione di benessere questo è un test per migliorare la qualità della vita non per leggere queste pandemie in continuo aumento neoprasia da 0 a 14 anni un bambino su 400 e qui tutti gli studi obesità siamo arrivati ormai vicino all'uso agli americani e quindi ancora una volta vi ritrasmetto queste importanti 4p da tenere in considerazione dove l'epigenetica è il programma è il software della nostra vita dove dobbiamo smettere di contare malattie 370.000 tumori maligni nel 2019 tutti i fattori di rischio li conosciamo abbiamo uno strumento straordinario per capire finalmente cosa può essere evitato per evitare i danni alle cellule e questo penso che sia qualcosa di straordinario e mi chiedo ma chi ha la tecnologia S-Drive come mai a volte non lo usa su tutti i pazienti e io a volte dico ma com'è possibile se non hai altri strumenti alla fine perché le sostanze chimiche idrocarburi radiazione metalli tossici come fai quanto ci metti con qualsiasi altro strumento per capire basti pensare che i dati ormai sono questi inquinamento epigenetica malformazioni trasmissioni alle future generazioni danni ai campi elettromagnetici danni alle cellule aumento di questa pandemia guardate beh questa la conoscete la faccio vedere sempre ma cosa vogliamo fare pulire la vasca vaccinare il pesce ogni riferimento è puramente casuale guardate l'iPhone viene sbloccato 80 volte al giorno 2600 volte al giorno noi picchiettiamo nel nostro iPhone nel nostro cellulare è una cosa veramente pazzesca questo ve lo manderò ve lo manderò quindi cosa facciamo modifichiamo il sistema dopaminergico stiamo distruggendo e stiamo condizionando i circuiti del piacere e quindi è un problema perché perché noi ci stiamo comportando così con i nostri figli appena nascono con una costante preoccupazione riguardo a introsi astinenza tolleranza mancanza di controllo che sono tutti studi scientifici che stanno dicendo stiamo sprogrammando le nostre generazioni stiamo insegnando ai bambini coi giochi a ammazzare la nonna cioè vi rendete conto ridotta attenzione e produttività quindi parlo anche per me per tutti noi stiamo parlando che aumenta l'ansia sta aumentando l'effetto depressivo sta aumentando lo stress relazionale guardate cosa sta succedendo ormai nei ristoranti disturbi del sonno e nessuno dei noi genitori fra me io perché faccio sto scherzando però lo faccio spesso vado in camera tolgo il cellulare mio figlio spengo il wifi c'è niente a fare perché l'impatto dei campi elettromagnetici sta creando dei danni veramente devastati e voi sapete abbiamo la smart cad che invece può aiutare molto è un salvo vita io la considero un salvo vita quindi il futuro della medicina sarà basato sull'intelligenza artificiale purtroppo è già così oggi mi hanno fatto vedere all'università durante le lezioni le tesi di laurea hanno fatto proprio vedere l'uso dell'intelligenza artificiale nel calcolare certi parametri e certi algoritmi per intervenire o non intervenire e quale farlo capite però noi dobbiamo utilizzarla per prevenzione perché i medici non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale no signore ma quelli che la usano prenderanno il posto da quelli che non la usano c'è poco da fare e qui ci sono tanti studi su un fatto che ci permette l'intelligenza artificiale di capire nello specifico i bisogni quando noi parliamo di linee guida questo è inutile l'avete conosciuto l'avete visto mille volte poi magari un giorno vi farò vedere anche tutto il discorso della risonanza biorisonanza ma chi fa la scuola di alta formazione queste cose le ha già viste noi utilizziamo il capello perché non c'è niente da fare è un biomarker straordinario affidabile che ci permette di interagire sui bisogni a livello cellulare e conoscere viene utilizzato per i disturbi psichiatrici e grazie alla tecnologia S-Drive noi mappiamo oltre 800 marcatori tutti i certificazioni le conoscete questo è un caso interessante che il dottor Bartolomeo Allegri ci fa sempre vedere c'è una postavirosi una virosi e le muffe analisi ematici e riattivazioni come vedete dello zoster guardate sopra i 1500 per esempio pure questo viene confermato da anche dei esami ematici sarà un caso no? no? questo è un altro caso emozioni intestino vedete virus post virus funghi questa è anche una persona guardate di insulino resistente guardate i due prima e dopo scusate la pagina dell'intestino la pagina del sistema immunitario questo come vedete post virus virus e funghi esami del sangue riattivazione epstein-barr guardate oltre il 600 sapete che è sopra il 600 e guardate anche la varicetta addirittura qui è intervenuto anche una terapia antivirale in vena ma guardate e questo alcuni di voi l'avranno già visto questo è un paziente il dottor Allegrini guardate prima venti anni venti anni con questo problema alopecia universale terapia fatto test S-Drive terapia supporto solo dopo due mesi guardate la prima fotografica è quella attuale quindi grazie alla tecnologia S-Drive grazie all'amore per la medicina grazie alla passione alla responsabilità che possiamo avere tutti insieme possiamo sicuramente fare tantissimo non dimenticatevi l'importanza di fare questo check del primo giorno questo lo trovate nel vostro report fate delle fotocopie veramente importante anche quello a 30 60 90 e incominciamo proprio a lavorare sul riepilogo dei sistemi e quindi sulle priorità partendo dai numeri uno due tre quattro lo vedete uno sfide ambientali priorità quello rosso due vitamine priorità tre interferenza campi elettromagnetici quattro acidi grassi essenziali cinque minerali quindi S3 mi dice guarda questa persona ha un problema sistema adrenergico ha un equilibrio micropico intestinale metrapposto ha una sintesi proteica ha un metabolismo di zuccheri perché vado a vedere le priorità possibilmente elimino quei cibi della dieta li mangia li toglie non li mangia continua a non mangiarli no ma io non l'ho mai mangiati perché no ma perché allora mi segnala no questo è una incompatibilità con quei cibi quindi se non li mangia vuol dire che probabilmente non gli piacciono neanche ma sono anche incompatibili con lui in questo momento quindi si consiglia di toglierli e poi qua vi dà ancora una volta le priorità e le specifiche dove intervenire sulle varie carezze a livello intracellulare e questo non lo faccio vedere le linee guida quindi sono come si fa un test drive ormai lo sapete quindi questa parte la salto poi questo documento naturalmente per chi me la fa richiesta è un mio regalo di Natale lo mando compreso qui quelle diapositive iniziali che vi ho fatto vedere e qui avete tutte le linee come interpretare tutta la linea di come interpretare il report S-Drive come partire quindi stasera abbiamo un maestro quello che ha creato il report avremo Marco Stento che ci farà la lezione e vedremo come mettere in pratica proprio queste linee guida che trovate pari pari passo passo su questo documento è chiaro che da qui poi parte la vostra straordinaria professionalità e esperienza in un approccio clinico e voi naturalmente poi ognuno fa quello che ritiene giusto partendo da delle priorità di intervento che si segnala la tecnologia S-Drive è un acceleratore ma è anche qualcosa che va in profondità ci permette di intervenire nelle priorità del paziente nella personalizzazione della persona poi voi potete poi approfondire con qualsiasi altro sistema analisi è chiaro questo non sostituisce nessun tipo di altre analisi ma ci fa ragionare e qui avete un esempio vedete vitamine verdi vedete che sono piene il sistema antiossidante è pieno ma è consigliato quando voi è da tenere magari ci ragionate poca considerazione lo vedete contornato quando è pieno invece tenetelo molto in considerazione e lo stesso nei fattori ambientali quando invece non c'è nessun tipo di spicchio né contornato né pieno non tenetelo in considerazione in quel momento non è prioritario per quel paziente per quella persona è molto importante il punteggio vedete in questo caso se voi avete la pagina del sistema immunitario è molto importante che siccome qui è 70 è il doppio del massimo e quali sono quei numeri alti che mi richiedono attenzione nei vari carenze o sistemi o danno ambientale in questo caso vedete i numeri alti sono il 22 il 14 poi c'è anche il 9 il 5 il 4 il 6 ecco andate a vedere di mettere a posto queste cose lui vi dice dove intervenire è la stessa cosa nel sistema cardiosincolatorio è la stessa cosa nel sistema gastrointestinale e quindi poi potete leggere questo documento per capire l'azione specifica delle varie vitamine e del perché poi bisogna intervenire prima di tutto come ci insegna sempre Marco Stentor nel togliere il sovraccarico tossico che sta danneggiando la cellula capire perché quella persona non rimuove quei metalli pesanti o quelle sostanze chimiche il sistema antiossidante il sistema gastrointestinale è una sensibilità al glutine eccetera c'è una disbiosi questo lo sapete molto bene quindi intervenire in maniera ritenete sempre presente che i campi elettromagnetici non si vedono ma creano un danno veramente forte a livello disbiosi intestinale flora batterica danno mitocondriale danno alla membrana cellulare eccetera 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 al tessuto del sistema nervoso al ritmo sonnoveglia tenete presente queste cose non è un test per le allergie un test di sensibilità contro questi cibi che è meglio limitare e la cosa straordinaria è avere a disposizione un test che permette di capire l'intossicazione anche di additivi alimentari quindi intervenire con un sistema un approccio nutrizionale se siete nutrizionisti medici nutrizionisti insomma ti consigliare in modo personalizzato come sapete poi alla fine del report ci sono i cibi e ci sono le carenze l'elenco delle carenze i cibi dove potete trovare quei nutrienti togliendo quelli che lui ha segnalato che sarebbe meglio non mangiare e quindi permette di rigenerare le cellule in modo personalizzato personalizzato individuale queste sono tutte le certificazioni ecco direi che poto fare un ripasso una panoramica soprattutto per i nuovi prima di ripassare la parola direi al papà dei report e magari può in sé il grande Bartolo Bartolo eccolo qua aspetta Bartolo che ti do la parola voglio salutare anche te stasera che è un po' che non ti non ti vedo aspetta che ti ti do ecco qua attiva pure l'audio Bartolo ce la puoi fare eccolo qua eccolo qua quindi stasera ho finito poco fa di fare l'ultimo bulbo insomma abbiamo questo strumento eccezionale l'inizio mi ha chiamato un paziente di mestre che ci ha conosciuto per il congresso che abbiamo fatto a Udine dalla dottoressa Ciani a fine settembre è stata una fortuna per la sua ragazza di 22 anni che aveva una sindrome grave sarà uno dei casi clinici che poi vi presenterò prossimamente una sindrome grave gravissima l'aveva girato il mondo però grazie anche all'aiuto del test siamo riusciti a inquadrarla e questa ragazza che l'ultima di anni si era stata a 22 anni un architetto che aveva studiato a Venezia la sua città era stata sindrome depressiva a 22 anni grazie a un'interpretazione guidata dal test S-Drive siamo riusciti lavorando con la triade di Giorgio quindi con rimedi di regolazione neurovegetativa lavorando su una riattivazione virale lavorando sul danno cellulare che era stata causata anche da un uso abuso di chinolonici e ricordatevi che i chinolonici tra gli antibiotici sono quelli più pericolosi per il mitocondrio quindi per me diciamo ormai è diventata una protesi la bobina di Tesla e quindi voglio dire spero che la diventi anche per voi voglio dire quindi andiamo avanti questo viaggio non so se prossimamente avrò il piacere di fare qualche serata con voi però Giorgio mi sa che sta preparando qualcosa anche perché ora abbiamo fatto anche un bellissimo lavoro Giorgio lo sa con Antonio su quello che è un regalo post natalizio speriamo natalizio post natalizio o prima di Natale o dopo Natale lo presentiamo poi chiediamo in chat se lo vogliono prima o dopo sì sì quindi io sarò in partenza domani vado a lavorare quindi stasera vi lascerò un po' prima che c'è il mio buro mattutino perché questa è una settimana un po' corta cioè venerdì che è festa e quindi devo anticipare la mia partenza però prossimamente poi c'è il grande maestro Marcus che saluto e abbraccio che non vedo ancora il video Marcus ci sei? Marcus e Mike buonasera a tutti e grazie io ci sono vado grazie ciao a tutti Marcus un'altra grande serata insieme Bartolo grazie di cuore per il tuo supporto e niente dacci una data e noi e noi beh quando volete voglio dire non tranne chiaramente giovedì e venerdì o il martedì sono sempre in Puglia quindi ci possiamo collegare tranquillamente quando vuole possiamo fare un po' di casistica senza problemi con Antonio magari sempre casi nuovi in maniera tale sì sì vi organizzate senza problemi grazie grazie di cuore dopo tutte queste serate con Marcus voglio dire siamo tutti più pieni dai abbiamo in mano un bel un bello strumento per l'evoluzione quindi facciamo sguardo ho cercato di trasmettere questa consapevolezza questa sera di quanto sia intelligente utilizzare questo strumento che poi fa ragionare il professionista il medico in maniera veramente unica penso proprio tu ormai l'hai provato e messo alla prova più volte ormai l'ho sposato diciamo che è uno strumento che va anche oltre per cui vuole dire già il fatto di avere tanto però vuole dire il futuro è fatto da soprattutto da orizzonti nuovi quindi vuole dire viviamo insieme il presente però cerchiamo di proprio strutturare una base solida quello che stai facendo tu con queste serate perché veramente oggi è un'occasione unica io che sono in questo mondo da quasi 30 anni per poter avere un linguaggio comune nell'affrontare le problematiche delle malattie della società moderna per cui effettivamente ecco è una grande opportunità che abbiamo se la comprendiamo e ci strumentiamo nella maniera adeguata chiaramente con l'impegno con la serietà con quello che facciamo penso che sia questa la strategia migliore poi il resto lo dirà il percorso che faremo non sappiamo qual è la meta facciamo questo viaggio e vediamo dove arriviamo in realtà il successo è il viaggio che facciamo già questo è un successo bravissimo grazie di cuore grazie veramente mi ricollego fra poco dopo che preparo la varigia mi ricollego buona serata Mike Mike io ci sono Giorgio io sono presente Mike presente sì Marcos è presente Marcos welcome welcome to everyone again benvenuti a tutti so I'm I'm back from the island which is a 25 degrees difference to what I had before from one day to the next bene sono rientrato dall'isola di La Palma ci sono 25 gradi centire di differenza e mi sono dovuto acclimatizzare in una sola giornata yes it's snowing outside big time we actually left the car and walked because everyone's going crazy c'è in atto una nevicata fortissima abbiamo dovuto abbandonare l'automobile bloccata è veramente quasi la follia di neve cioè yeah but I'm glad I'm happy and glad to be back and we have two very interesting cases tonight to talk about sono però felice di essere ritornato sono felice di essere qui con voi stasera e questa sera vi presento due casi interessanti so Giorgio thank you so much for the heads up here and for sending those cases Giorgio grazie grazie per l'aiuto che mi hai dato e grazie per avermi inviato questi due casi thank you grazie absolutely and actually Tamara is also joining us tonight si unirà a noi anche Tamara questa sera in Slovenia che è collegata dalla Slovenia there she is and actually we we do almost weekly supervisions on different patients that she has and it's just a delight to see what happens with the people ebbene settimanalmente Tamara ed io facciamo supervisioni insieme con i suoi pazienti ed è straordinario molto bello e molto interessante vedere l'evoluzione di questi pazienti e l'emergere di quello che succede because Tamara actually has them obviously come in the following every three months and so really from one appointment to the other it is just fascinating to see what happens with them and how eager they are to see what the next report shows in effetti questi pazienti di cui faccio a cui faccio riferimento di Tamara vengono visitati da Tamara con scadenze appunto trimestrali al massimo quindi vengono e rifanno poi il test ogni 90 giorni ed è molto interessante seguire l'evoluzione di questi pazienti che peraltro mostrano un grande interesse a monitorare anche stessi il progresso che fanno so here's Tamara with Teodoro who obviously is not so willing to join right now but Tamara maybe you could have a few words on this interaction ebbene Tamara è qui con noi abbiamo forse sentito nello sfondo Teodoro credo sia il bambino di Tamara e quindi invito Tamara a prendere la parola per illustrarci quello che vuole su questa sua situazione ok ok so I wasn't expecting this so you would like me to say something about the progress we make with patience non mi aspettavo che mi avresti interpellato a dire la verità però mi stai chiedendo di fare un commento sul progresso a cui alludevi per quanto riguarda i miei pazienti vero? so yeah I mean please Tamara thank you please thank you well thank you for everything that you're doing I mean I hope that we will be able to do the same thing also here in Slovenia grazie grazie a voi per tutto quello che state facendo e auspico di poter fare esattamente le cose che fate voi anche qui in Slovenia avvisa la Mike di parlare piano che così traduci ok vediamo ok so it's it's really about the thing that I see with the patients when they come is they don't have any hope anymore because they tried everything and they suffer for a lot of time I mean sometimes also years or a lot of months and they tried everything and the problem is because they don't have any solution anymore and they don't have any hope wait for the yes quindi con i pazienti che io sto trattando veramente talvolta la situazione è molto molto difficile queste persone arrivano hanno provato di tutto e sono in grande sofferenza sono in grande sofferenza perché talvolta queste patologie durano da molti mesi addirittura in taluni casi da molti anni e hanno perso spesso la speranza so i'm very happy whenever they decide to try the S drive and when i explain them how the epigenetic works and how Marcus works and then we do the test and they have a conversation with Marcus he gives them the routine the things to help the people and the things dramatically change their health dramatically changes in the first three four months and it's completely different people e quindi succede questo che vengono da me questi pazienti io li sottomongo al test dell'S drive gli parlo dello strumento S drive gli parlo di che cos'è l'epigenetica gli parlo di Marcus e che lui si prenderà carico o darà loro dei consigli poi in effetti dopo il test fanno un incontro con Marcus che gli fornisce la prescrizione e la routine da seguire e piano piano vedono poi il cambiamento nel loro stato di salute nel corso dei due tre mesi successivi e veramente cambiano atteggiamento thank you Marcus bene questi pazienti vedono un cambiamento ma non soltanto nel loro stato di salute vedono una metamorfsi un cambiamento anche nella loro personalità nel chi sono arrivano con molta poca energia e nell'arco di due tre mesi talvolta anche meno riacquistano un sorriso diventano felici e tornano a ritrovare se stessi veramente mi sento molto fortunata di provare questo tipo di esperienza con questi pazienti e voglio ringraziarvi e ringraziare in particolare Marcus per questo ok well thank you thank you so much for sharing this experience and I'm sorry I've thrown you in the cold water with no announcement grazie Tamara grazie per aver condiviso con noi queste tue esperienze ti chiedo scusa se ti ho coinvolto all'improvviso senza dirtelo prima così di parlare in pubblico insomma grazie grazie di guarda ok well thank you so much for that and I I just think it is important to see different examples different people working with the S drive in their in their proximity è molto bello ed è molto utile osservare le persone che lavorano con l'S drive nel loro contesto osservarli e vedere i risultati che si producono the fascinating thing is that the S drive enables any therapist in the world to to really expand in a holistic way and to really address the person that's coming through the door la cosa più affascinante di tutte è che questi terapeuti che usano l'S drive vedono progresso crescono loro stessi e appunto permettono di dare qualcosa ai loro pazienti qualcosa in più so thank you Tamara again for sharing this experience I think it is super important that we all share experiences with one another and if you come to realize the foundation of medicine actually is not theory is experience e questo ci può aiutare a prendere sempre più consapevolezza che le fondamente dalle medicina non sono teorie ma sono esperienze empiriche e pragmatiche e for hundreds maybe thousands of years this experience has been collated together and that's what future generations profit off is to get more in deep understanding of how the natural processes work vedete per centinaia forse potrei dire anche per migliaia di anni l'esperienza medica si è raccolta e si è legata insieme per portare poi a una profonda conoscenza che ci permette appunto di operare se noi osserviamo la scienza moderna e la medicina moderna vediamo che spesso è compartimentalizzata cioè si definisce compartimento per compartimento and the point is you can look at a single receptor and the processes happening through this one signal chain but possiamo osservare i fenomeni a partire da un unico recettore per esempio e vedere qual è il fenomeno che si produce a quel livello specifico del ricettore but this receptor might have different functions in different places ma quel recettore può avere diverse funzioni in contesti e posti diversi or the one agent for this receptor the trigger might have a totally different function in one place than the other oppure per esempio un agente che fa da trigger per quel ricettore può avere una funzione totalmente diversa in un'altra interazione serotonine for example in the brain it's happy hormone per esempio la serotonina nel cervello è l'ormone della felicità in the body externally outside the blood brain barrier it has an effect on the blood pressure fuori invece nel corpo quindi al di là della barriera sangue cervello ha un impatto diverso ha un effetto diverso what kind of effect was it on the blood pressure in effetti ha un impatto sulla pressione sanguigna two thirds of the serotonin is actually produced in the gut due terzi della serotonina in effetti vengono prodotti a livello intestinale depressed gut depressed person quindi se c'è un intestino depresso il risultato è una persona depressa so so are just examples the point is to look individually at the person these 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 only examples the objective and the reason why I this discourse is to observe and consider the individual the person in such a so the S drive gives you this power in your hands to expand the horizon so as I mentioned I have been sent two cases by Giorgio dicevo prima che Giorgio mi ha inviato due casi and Mike if you'd be so kind to read the first the first lines on the 24 year old ok quindi Marcos mi chiede di leggere un documento che mi ha mandato poco fa per email che illustra il primo caso quello di un giovane fratello 24enne c'è scritto appunto fratello 24enne ora affetto da proctite ulcerosa lieve dal 2021 questo paziente in trattamento con bassi dosaggi di mesalazina presenta una sintomatologia attuale lieve con raro sangue rosso vivo nelle feci ha un peso ponderale di 64 kg e ha un'altezza di un metro e settantanove ora queste sono pochissime informazioni però chiaramente subito mi appare che c'è un focus sul sistema intestinale chiaramente c'è uno squilibrio a livello immunologico immunitario e una disfunzione, uno squilibrio anche a livello intestinale in questo caso è familiarizzata che ha una riabilità di comportazione del nostro corpo e di movimento a livello cultivos anche che può esserci una problematica legata all'assorbimento di sostanze nutrienti. So, last time, the second report I did blindfolded, this time you have some pre-up information, but I have not looked at the test report yet at all. Allora, come per un caso, il primo caso che abbiamo fatto la settimana scorsa, che ho fatto, come dire, con occhi bendati alla cieca, in questo caso abbiamo noi qui più dati, abbiamo anche dati pre-operativi, però non ho ancora letto il report dell'S-Drive. So, let me pull up the report. Quindi adesso vado al report dell'S-Drive per questo caso, per questo paziente. So, here we go. One second, please. Vi chiedo di pazientare un attimo mentre carico il report e lo condivido sullo schermo. Ok, yes, ok, I got the right one here. Sorry, I just made sure that's the right name. So, I will put in the report on your screen now. Dovreste tra poco vedere il report in condivisione sullo schermo. Ok, you should be able to see. So, this is, yes, this is the report. Quindi questo è il report. And if you come to think about the underlying problem, you would probably be expecting the intestinal situation to be the top most influence on the health, on the right upper side. Alla luce di quello che abbiamo detto poc'anzi, ci dovremmo aspettare di vedere in alto a destra evidenziato il sistema intestinale come prioritario. But if we look at this, actually the picture is very mixed. There's very different influences. Invece, se guardiamo questo quadro, vediamo che ci sono molte più influenze. Quindi il quadro è un po' più misto di quanto potevamo aspettarci. The same is true. If you look at the specific page for the intestinal situation, actually the combined score below at 16 is only a medium. Se in effetti andiamo addirittura alla pagina specifica relativa alla salute dell'intestino, vediamo che il totale, il valore totale in basso della seconda colonna a partire da destra è il valore totale di 16, che non è un valore molto elevato. So, some people would say, oh, you know, I don't know whether that's right because everything should be top for the intestinal system. E qualcuno potrebbe dire, ma questo non è corretto, è strano questa cosa, perché dovrebbe esserci questa evidenza del tratto intestinale come prioritaria nello stato e nella condizione di questo paziente. Basically that's true. That's where the main symptomatic is to be noticed. E questo è vero perché i sintomi ci portavano a questa conclusione. Ma cosa fa l'S drive? L'S drive legge le informazioni, le bioinformazioni dell'organismo in un preciso istante. E il corpo, nel darci la sua risposta, evidenzia e mette in priorità quei sistemi dell'organismo che la richiedono maggiormente. E ci fa vedere l'S drive, nel suo report, quali sono gli affluenti, quindi i sistemi o le cause che portano poi ad affluire su quello che diventa il problema dell'intestino. This is exactly the point. We want to go far beneath just a symptomatic therapy. We want to go far beyond just treating what's written as a diagnosis. What we want to do is we want to look at the root causes. In effetti, e questo ci porta proprio al nocciolo del significato e del valore che ha l'S drive, perché noi vogliamo andare oltre i sintomi e oltre una semplice diagnosi. Noi vogliamo andare alle cause che generano quello stato. E in questo caso specifico, appunto, vogliamo andare alla fonte. Quali sono queste fonti? In questo caso, i fattori epigenetici che determinano quello stato e quella sindrome. Now, I think we all can agree that inflammation is a main factor to the health situation of this person. Possiamo trovarci tutti d'accordo sul fatto che l'infiammazione è un fattore molto importante e sottostante alle condizioni di salute di questa persona. E poiché questo tuo paziente ha 24 anni, questi fattori che influenzano il suo stato di salute sono molto, molto significativi. So, let's look at the different factors that play a role here. Quindi andiamo a vedere quali sono questi fattori che svolgono un ruolo in questo caso. At the top category are antioxidants. Quindi la categoria in alto, quindi quella che viene evidenziata come prioritaria è la categoria degli antiossidanti. Now, this obviously shows there is a significant amount of oxidative stress. Questo che cosa ci dice? Ci dice che c'è un elevato stato di stress nitrossidativo. Oxidativo. Stress ossidativo. Thank you. And the point here is this whole system is under tension. It is under such a friction that a lot of energy is wasted in this process. Questo sistema è sotto una fortissima pressione, tensione, frizione, attrito che genera questo malessere e quindi l'infiammazione. Possible contributing factor could be the second category, the chemicals and hydrocarbons that could play a role. Alcuni fattori che possono determinarlo sono idrocarburi, per esempio. And so obviously there is a significant demand for a detoxification process. E quindi diventa evidente che c'è una rivendicazione o un bisogno di una forte disintossicazione. If we look at the vitamins as the third category, those are almost all metabolism oriented. Se guardiamo la terza categoria evidenziata, che è quella delle vitamine, vediamo che sono appunto legate al fenomeno, al fattore metabolico. B3, vitamin B3 and betaine are contributors and helpers within the energy production. Appunto, la vitamina B3 e la betaina sono elementi che sono molto, molto importanti per la salute, per lo stato di salute. Vitamin D3 is a helper in the metabolic processes that also aids the function of the thyroid hormones. Per esempio, la vitamina D3 è un elemento di grande importanza per i processi metabolici e per il funzionamento tiroideo. And vitamin K2 has a somewhat equal role. E anche la vitamina K2 ha un ruolo analogo. So this is a lot about energy production. Quindi questo quadro che comincia a presentarsi ha un titolo in particolare, che è quello che possiamo definire produzione di energia. When energy production is low, the mitochondrial function is low, then a secondary effect takes place. Ebbene, quando l'energia è bassa, quando automaticamente c'è un'attività mitocondriale più bassa, a questo punto l'effetto è... What is the effect of this? I'm telling no. Ok, vedremo che l'effetto è... Basically, due to signal molecules and a changed metabolism, the mitochondrial function is downregulated. C'è una riduzione dell'attività mitocondriale come conseguenza della segnalazione molecolare e del cambiamento, appunto, della produzione di energia. And obviously we have more than just one mitochondria per cell. It's either between 500 and 12,000 mitochondria per cell. Certo, ci sono molto più di un solo mitocondrio per ogni cellula. Varia da 500 a 12,000 il numero di mitocondri per cellula. But there is one gateway enzyme system that plays a major role. Ma c'è un gateway enzyme system, cioè quindi un sistema di porta... Enzymatica. Enzymatica, che conduce... And this, it is called the five-folded pyruvate dehydrogenase. Pyruvate? Pyruvate dehydrogenase. Quindi c'è una sostanza che si chiama la dihidrogenase del pyruvate con cinque pieghe. And it is like an on-off switch for the mitochondrial function. Che è come un interruttore, che agisce come interruttore sulla funzione mitocondriale. That's just one example of why the mitochondrial energy production can be reduced. E questo è solo un esempio del come è possibile vedere una riduzione dell'attività mitocondriale. Of course, there are other factors, like toxic heavy metals, etc., etc., that play a role or an influence. Chiaramente ci sono poi tanti altri fattori, come per esempio l'influenza di metalli tossici, che possono avere un ruolo in questa situazione. Like also a lack of manganese and other elements. But the point is, the lower, the more down-regulated the mitochondrial function is, the more susceptible they get to low frequencies and electromagnetic waves. Tuttavia, la differenza è questa, più si abbassa l'attività mitocondriale, più è forte l'effetto negativo che possono esercitare i campi elettromagnetici sull'organismo. This is why, with many chronic patients and high inflammatory patients, the interferenze show up. Ecco perché queste interferenze si manifestano molto di più proprio nei pazienti, sia cronici che con infiammazioni acute. Allora, adesso andiamo avanti e vediamo che in quest'altra pagina abbiamo altri fattori che hanno un impatto notevole sullo stato di salute. Al primo posto qui viene evidenziato il sistema ormonale. The cardiovascular system needs attention. There seems to be a disbalance in the metabolism of the fatty acids. Pare che ci sia uno squilibrio nel metabolismo degli acidi grassi. And intestinal system shows up as well. Ed ecco che si manifesta qui anche il sistema intestinale. Quindi, come abbiamo visto dalla descrizione che abbiamo letto prima, c'è un'infiammazione a livello del colon. It's an ulcerative proctitis. That's the word for it. Una protite ulcerativa. Possiamo definirla così. So, but if we... That is not something that drops from heaven. It's something that slowly grows and comes into effect. Non è una cosa che si manifesta ad un tratto, come se fosse caduta dal cielo all'istante. È una cosa... È una condizione che è conseguenza di uno sviluppo lento e continuo nel tempo. So, we... The one thing is to look at possible causes why the inflammation is there. That's the one part. La prima cosa da fare è quello di andare alle cause. Come mai c'è questo stato infiammatorio? E quali sono le origini? And the second part is to look at which substances actually reduce this inflammatory process over the gut wall. E poi, secondo, quali sono le sostanze che producono o che possono ridurre questa infiammazione a livello della parete intestinale? Quindi, per questo suggerisco di passare a quest'altra pagina, dove vediamo i fattori che influenzano maggiormente il sistema immunitario. And what is interesting to see, if you look on the second column from the right, then you see an added value below of 108. E la cosa interessante qui, e porto la vostra attenzione su questa colonna, la seconda colonna da destra, vedete che il valore totale qua giù è di 108. E sappiamo che qualunque valore oltre 35 è considerato un valore molto elevato. E richiede attenzione, e chiaramente il totale di 108 è un valore elevato. Quindi adesso andiamo a vedere le varie categorie in maniera orizzontale e andiamo a cercare qual è la categoria che ha l'impatto più grande, l'impatto maggiore. Quindi quali sono gli ingredienti, gli elementi su cui posso intervenire, che posso somministrare per avere l'effetto più grande? E c'è una categoria che ha il valore più elevato, il valore 29, ed è la categoria degli antiossidanti. E quindi somministrare vitamina C, vitamina D e acido alfa lipoico sarà la scelta che avrà l'impatto e l'effetto più forte, più importante. E le altre due categorie con rispettivamente 21 e 20 di valore sono la categoria delle vitamine e la categoria degli indicatori di resistenza. Quindi i parassiti, per esempio. Yeah. So, then, obviously, if vitamin C and vitamin E have already been indicated, then I would also, of course, add the vitamin D3, just to make sure to cover that spectrum. Quindi se sono già stati somministrati vitamina C e vitamina E, io aggiungerei la vitamina D3 per ampliare lo spettro vitaminico che viene somministrato a questo paziente. But looking at the parasites, obviously, it is super important to find, to possibly find out what influences are given there that irritate and absorb the immune function so dramatically. But, pensando all'aspetto dei parassiti, è opportuno andare a ricercare le influenze, da questo punto di vista, che hanno un impatto sullo stato e la condizione del paziente. Per esempio, se noi vediamo evidenziate le spore, sarebbe opportuno andare a vedere se nell'abitazione dove vive, nell'ambiente dove vive questa persona, sia presente la spelligus. Or, what sort of a virus could have an influence here? Oppure, per esempio, dal punto di vista virale, qual è il tipo di virus che potrebbe avere un effetto? Obviously, there is different ones you could think about. One example would be Epstein-Barr. Ci sono tanti esempi che potremmo considerare, voglio dire, dal punto di vista virale. Uno potrebbe essere l'Epstein-Barr. But those are just examples. So, then, you have the ability to say, okay, maybe that is something I would like to look into. Quindi, sto solo citando questi nomi a mo' di esempio, solo per dire, stiamo cercando le tracce per andare a seguire un'indagine, insomma, e quindi andare a cercare i colpevoli. But, still, you could ignore that. You could just go forward and say, okay, I want to change the immune performance, so I start off with the antioxidants and a few other factors, and then that, by itself, already starts to change the situation. Oppure possiamo intraprendere un altro percorso. È quello di dire, no, io voglio partire prioritariamente a dare un impatto sul sistema immunitario e quindi, per esempio, parto appunto dagli antiossidanti e parto seguendo un'altra strada, insomma. Questo è un motivo e spiega forse il perché è importante operare a livello personalizzato, cioè veramente concentrarsi sul caso specifico. Now, if we switch over to the gut situation, I said before, actually, this is only shown as mild priority, or medium priority, I'm sorry, medium. Allora, torniamo adesso al sistema intestinale. Ho detto prima che, se andiamo alla pagina dell'intestino, vediamo che viene indicata come una priorità inferiore rispetto ad altre che sono state evidenziate. So, we look at the individual factors that play a role here. Quindi andiamo ad esaminare i singoli fattori che hanno un ruolo su questa pagina dell'intestino. And many therapists would go forth and say, oh, bad gluten and bad cow milk and bad this and bad that. Molti terapeuti potrebbero dire, questo è dovuto a problemi legati al glutine oppure problemi legati al latte vaccino. But in this case here, for the specific gut situation, other categories are relevant, but food as such here is listed as zero, as niente. Ebbene, invece in questo caso vediamo che l'aspetto alimentare, quindi gli alimenti specifici, contribuiscono zero. Now, obviously, the strongest influence on the gut situation on that side are the chemical and hydrocarbon elements. Invece, pare che gli effetti o le influenze maggiori sono le sostanze chimiche, per esempio. And also the electrosensitivity. E anche l'elettrosensibilità. So, this tells us if we do a proper detoxification, that's a tremendous influence on the basic situation of the gut. E quindi, cosa ci dice questo? Questo ci dice che se facciamo un processo di disintossicazione veramente fatto bene, questo già è un grande, grande passo avanti. Now, if we look at the indicators for the cardiovascular system, Se adesso andiamo alla pagina che ci dà gli indicatori relativi al sistema cardiovascolare. I have told an earlier lesson, basically, if a leaky gut has been existing for a long time, long time meaning years and years, then at some point the vessel system can equally be affected. Ho già detto in altre lezioni, appunto, in passato, che se c'è una sindrome dell'intestino gocciolante che dura da anni, questo può avere un effetto molto forte sul sistema vasocircolatorio. E come vedete qui, compaiono altri elementi in questa pagina relativa al sistema circolatorio, come per esempio lo iodio. The point is, the better we reduce the inflammatory reactions, the better the cardiovascular system will go. In altri termini, quello che sto dicendo è più riduciamo l'infiammazione, e quindi portiamola a ridurre l'infiammazione, attraverso anche la disintossicazione, meglio funzionerà il sistema circolatorio. Ok, so, looking at the different foods that should be avoided as much as possible within the next three months. Qui passiamo alla pagina in cui vengono indicati, c'è un riepilogo su quali sono gli alimenti da limitare nei successivi tre mesi. Here, for example, tono is in here. E vediamo comparire il tonno. Now, obviously, the big issue with certain tuna from certain regions in the world have an issue with heavy metals. E chiaramente il tonno, soprattutto quando pescato in certe zone del mondo, porta la problematica dei metalli pesanti. The same is true for salmon. E lo stesso vale per il salmone. And what's interesting to see is to find chicken in here. La cosa interessante è che troviamo anche elencato qui il pollo. Chicken is a light meat, it's low in fat, so it's actually not bad as such. Ora, il pollo è una carne leggera, con meno grassi, quindi non dovrebbe essere un problema. But, if a person, through what advice whatsoever, eats mainly chicken to emit others, that also can be a problem or an issue at some point, because? Tuttavia, se una persona, proprio perché è portato a consumare una dieta più leggera e quindi consuma eccessivamente pollo a scapito di altre forme di contenuti proteici, questo può creare dei problemi. If a person eats a certain food a lot, then the body starts to identify this food with the toxins or pesticides or whatever is carried in them, the body tends to identify that food as a carrier for those substances. Quando si consuma troppo, in eccesso un certo alimento, avviene nell'organismo una sorta di identificazione tra quel alimento, fa un abbinamento tra quel alimento e la produzione di tossine o la presenza di pesticidi, per esempio. So, it makes sense to then leave those foods away for the next 90 days? Ecco perché è ragionevole sconsigliare o consigliare di limitare quegli alimenti per i prossimi 90 giorni. o tre mesi? Tre mesi. E per solo supportare il sistema. Perché? Proprio per dare un aiuto al sistema, quindi dare un supporto al sistema. Perché? Perché, come ora, i nostri alimenti riducono l'energia e questo è quello che non necessitiamo. Perché? Perché questi alimenti stanno portando via energia all'organismo ed è la prima cosa che noi vogliamo risolvere. quindi andando ancora ad esaminare le diverse categorie. Quindi abbiamo detto che più è bassa l'attività mitocondriale, più si è suscettibili all'effetto dei campi elettromagnetici. But it's also a good cause to think about maybe this person has an elevated level of exposure. Oppure potremmo anche dire o pensare ma aspetta, forse questo soggetto è esposto a frequenze elettromagnetiche eccessive. Per esempio, qui viene citato la corrente di trazione, quello che viene usato anche nelle locomotive, sui treni. Is this person living near a train track or is it riding the train to work every day for a long time? Quindi, per esempio, questo ci può portare a porci un quesito. Questa persona vive vicino ad una ferrovia, vicino a una linea ferrata oppure magari fa il pendolare sui treni tutti i giorni. These are factors to look at in the personal surroundings and also in the job environment. Questi sono fattori che ci danno degli indizi per compiere una ricerca specifica relativa all'individuo, soggettiva, per andare ad esaminare l'ambiente in cui vive questa persona. These are just some examples. Like, does the person have a lot of radiation in the bedroom? Questi sono soltanto degli esempi che sto citando. Per esempio, un altro quesito che possiamo porci è nella camera da letto dove vive questa persona? È esposta a molte fonti di radiazioni? Abbiamo oggi, in effetti, specificamente avuto un caso e ci siamo chiesti se la persona quando dorme spegne il cellulare che tiene sul comodino. So, those are all the individual factors that need to be taken into the picture. Questi sono i singoli fattori che vanno considerati per crearci l'immagine, il quadro della situazione. And if you are in your middle, if you are in your strength, it is much easier to resist these influences. E se siamo centrati e quindi centrati e centrati, banalmente, siamo chiaramente più in grado e più forti a opporre resistenza a queste influenze. Per questo io amo indossare questo collare che protegge appunto da frequenze elettromagnetiche. Proprio per questo, per riequilibrare il mio stato. Dr. Ian Lyons ha introdotto questo in Bologna and Giorgio has shown that or you can address Giorgio about it. Ebbene, chi era a Bologna all'ultima convention che c'è stata ricorderà che il Dr. Ian Lyons ha presentato questo strumento, questo collare e se volete saperne di più potete rivolgervi al Dr. Giorgio Terziani. Now, I had talked about the function of the individual vitamins so I don't need to repeat that. Prima ho accennato alla funzione delle singole vitamine ma adesso quindi non è necessario ripetere. With the minerals you see that iodine has shown but it's not a priority because otherwise it would be marked in a color. Per quanto riguarda lo iodio che abbiamo citato prima vedete qui su questo riquadro è evidenziato come contorno però non è colorato vuol dire che è evidenziato ma non ha un aspetto prioritario altrimenti sarebbe a colori. è stato citato esclusivamente come fattore che influenza il sistema cardiovascolare ma non come fattore che influenza tutto il sistema dell'organismo. Che cosa significa questo? Che non c'è un fabbisogno di minerali oppure che i minerali non hanno un ruolo non svolgono un ruolo? No they might pop up at a later report but at a different stage. No potrebbero comparire in un report più avanti quindi in una fase successiva dell'evoluzione del paziente. All that the report says is for now the other fields need to be addressed more urgently. Quello che ci dice questo report in questo caso è che per adesso non è prioritario ci sono altre priorità per il sistema. So the top category was antioxidants and I had talked about that already. quindi la categoria numero uno avevamo visto è quella degli antiossidanti e ne abbiamo già parlato. For example I like to work with intravenous infusions A me piace lavorare somministrando infusioni in endovena In specific cases where I have the feeling okay this person really needs a boost in in case particolari specifici dove io decido che questo paziente ha bisogno proprio di un boost di una bella botta and then support the system like here vitamin c could be used in maybe 7500 milligram e poi chiaramente integratori da aggiungere per dare un supporto al sistema come in questo caso per esempio somministrare vitamina c con dosaggio di 7500 milligrammi and I specifically like also to use alpha lipoic acid which would be a 600 milligram infusion per esempio un'infusione di 600 milligrammi di acido alfa lipoico which really opens the blood vessels and helps not only detoxification but the nutritional inflow in all regions of the body e poi per esempio questa somministrazione di acido alfa lipoico cosa fa apre i vasi sanguigni facilita il processo di disintossicazione e permette di portare i nutrienti dove servono so this is also one of the most important categories I had spoken about that already that's why the need for detoxification is here this this is another category very important we mentioned before this is why and thanks to this is very evident the need to detox disintossicazione so I said parasites play a role and it would be sensible to look a little bit behind the scenes and to ask living conditions to ask job conditions is there air conditioning etc etc abbiamo parlato prima del ruolo importante evidenziato dal report dei parassiti e quindi è opportuno in questo caso andare dietro per andare a vedere le possibili cause andando ad esaminare l'ambiente in cui vive in cui lavora il paziente giving this entire picture quindi preso questo quadro così com'è d'insieme and apart from the elements I had pointed out already that would be sensible to give in my perspective quindi a parte gli elementi che ho già citato le cose da somministrare e quant'altro it is highly important to observe and to continuously treat the pro inflammatory state meaning regulating that down to a normal degree again è fondamentale molto importante mantenere un'osservazione e quindi un trattamento per prenderci cura dell'aspetto infiammatorio in questo paziente now this there are certain elements that you can use as a basic theory apart from those that are listed in the S-Drive report specific with the colon situation here in mind soprattutto con riferimento alla situazione allo stato del colon I had shown you to work with zeolite for the gut situation so that would be another contributing factor I have illustrated in past the use that can be done with zeolite for the state of intestine and to use specific anti inflammatory elements which should also be tested which ones are strongest e poi anche provare a fare dei test su agenti anti infiammatori elementi anti infiammatori per fare dei test per misurare e vagliare quali possono essere più importanti e più efficaci one element as as one example if there is a process in the colon something has shown to be very effective ebbene per quanto riguarda un elemento in particolare ma a modo di esempio soltanto per quanto riguarda il processo intestinale quindi del colon and and that is granulated like a like like a rough like a rough powder of rishi mushroom un elemento a cui spesso di cui spesso utilizzo è quello di del fungo rishi in polvere quindi va frantumato ridotto in polvere il rishi e somministrare questo fungo non soltanto ha un effetto calmante sulla parete intestinale ma permette anche di veicolare nutrienti so called gluco elements those are rare sugars for the communication in the immune system i cosiddetti gluco elementi che sono sostanze succherine che permettono appunto di veicolarsi a livello intestinale e che hanno questo effetto so this this would be the this would be the overall picture for this person to really make a dramatic change ebbene questo quindi il quadro visto nel suo insieme per questo paziente e considerati questi fattori così come li abbiamo elencati se indirizzati e gestiti questi potrebbero avere un effetto veramente molto forte sull'esito e l'evoluzione per questo paziente e per quanto riguarda il processo di disintossicazione chiaramente soddisfarne il bisogno possiamo usare anche elementi che qui non vengono citati nel report ma che sappiamo possono essere utili per il processo del questo un elemento è listato l'acido alfa lipoic acid so you would use that but you can of course add in your infusion you can add zinc you can add selenium ebbene l'elemento che viene indicato nel report è l'acido alfa lipoico ma possiamo per esempio fare un'infusione dove si aggiunge all'acido alfa lipoico anche lo zinco e il selenio che sono sostanze di grande aiuto nel processo di disintossicazione possiamo aggiungere cisteina to augment the glutathione system possiamo aggiungere per migliorare la situazione del glutathione anche la cisteina for example as acetyl cisteina or n acetyl cisteina in an easy to obtain form come sotto forma di n acetyl cisteina o come acetyl cisteina and obviously you can use influencing elements to support the liver function which is the big detoxifier e poi possiamo usare altri elementi per esempio per rafforzare la funzione ematico del fegato che ha un ruolo fondamentale nel processo di disintossicazione basic helpers like bitter elements etc etc oppure elementi che possono aiutare possono essere gli elementi amari per esempio erbe amare but one element would fit here very well e ce n'è uno in particolare di questi elementi che qui sarebbe molto appropriato which would be kombuka la kombuka per esempio because kombuka the kombuka mushroom produces large amounts of one substance perché il fungo kombuka produce in abbondanza una sostanza in particolare which is glucoronic acid glucoronic acid l'acido glucoronico and the glucoronic acid is used in the liver to conjugate meaning to combine with certain toxic elements perché l'acido glucoronico nel fegato si abbina con altri elementi and those toxic elements are con elementi tossici si abbina nel fegato con questi elementi tossici and those toxic elements typically are hydrophobe they're lipophile soluble in fatty surroundings only e questi elementi tossici abbinati con l'acido glucoronico diventano solubili appunto nel nel acquosolubili insomma nel grasso so the glucoronic at the liver is called conjugates puts together glucoronic acid with these toxic elements and then they become water soluble quindi diventano idrosolubili queste sostanze questi elementi nel fegato stiamo parlando di un abbinamento dell'acido glucoronico con questi elementi tossici e quindi l'aggiunta dell'acido glucoronico rende questi elementi tossici idrosolubili and then they can be excreted through the kidneys e pertanto poi possono essere espulsi dalla funzione renale now those are individual factors for treatment and given this and giving those elements now listed from the s-drive report that's going to really bring traction to changing the situation ebbene qui ho elencato una serie di elementi che non erano comparsi sul report dell's-drive questi elementi che ho citato insieme a quelli che emergono nel report veramente in una fase terapeutica possono veramente dare una spinta notevole all'organismo affinché vada verso il miglioramento quindi questo è stato un esempio che ho voluto illustrare di come mettere insieme il report dell's-drive con il quadro clinico le due cose si mettono insieme combaciono in questa maniera quindi io chiuderei con queste parole con quello che abbiamo appena concluso il primo caso e io riprenderei adesso col secondo caso vi chiedo se possiamo fare un due minuti due tre minuti di pausa per andare brevemente in bagno ti aspettiamo ti aspettiamo così qualcuno può bere un bicchierre d'acqua e ti aspettiamo ok ci vediamo tra due tre minuti ancora una volta abbiamo visto quanto sia straordinario la visione di questo test con questo modo di interpretarlo naturalmente come ci ha insegnato Marcus l'interpretazione del test e come vi ho fatto vedere prima ha questo grande vantaggio di andare subito al problema la priorità naturalmente poi secondo la vostra professione e quello che ognuno di voi può fare la cosa ancora più interessante è poi avere tantissimi strumenti a disposizione come sapete in questo ambito mi viene in mente in quel caso il self-food gocce potrebbe essere veramente importante nel riattivare i mitocondrii e il DNA mitocondriale perché c'è anche una questione di carenza di ossigeno potete utilizzare anche la via di somministrazione sublinguale delle vitamine per chi non può fare endovena per esempio tutti i medici o professionisti possono fare una cosa del genere quindi o magari vi appoggiate a professionisti che possono farlo e comunque la via sublinguale per esempio le vitamine spray sublinguali insomma hanno una biodisponibilità vicina al 90-95% la vitamina C arriva al 90-95% il self-food come sapete ormai è stato studiato nelle patologie neurodegenerative ma anche come attività antiproliferativa a supporto naturalmente nella riprogrammazione proprio del DNA mitocondriale gli studi vanno in questo senso ormai la clinica ci sta dando ragione da 54 anni nel mondo e 25 anni in Italia quindi il self-food c'è sicuramente uno dei prodotti più straordinari tenete presente per un'intossicazione epatica è molto importante il same adesso l'esonosimetionina è un epato protettore disintossicante epatico antidepressivo è un modulatore della quindi è anche un rimetilatore del DNA come sapete lavora sulla metilazione il same sublinguale è veramente una grande risorsa ecco molto presto faremo anche un seminario un corso di formazione sulla nutraceutica per chi è interessato con il professor Mauro Miceli Volevo aggiungere, scusate, volevo aggiungere appunto, si potrebbero anche somministrare in questo caso vitamina C sublinguale e anche il cell food che sono di grande utilità in condizioni e in casi di questo genere. And the sublingual vitamin C as well. Yes, I mentioned that. Yeah, thank you. Okay, perfect. Good, so maybe we head off with the text for the second patient, Mike? Yes, I will. Here we go. Allora, adesso leggo quindi brevemente la situazione per il secondo caso. Una breve anamnesi. Un paziente di 47 anni in pieno benessere fino al 2008, quando invece ha contratto infezioni HIV trattata con antivirali. Nel 2019 ha cominciato a presentare disturbi intestinali che si sono accentuati nel corso di questi quattro anni. I disturbi che presenta sono dolori diffusi a tutto l'addome con accentuazione in particolare a livello del colon, colon traverso e emissione di feci malformate con più evacuazioni giornaliere e maleodoranti. Da circa due mesi presenta stato di ansia generalizzato e nell'ultimo mese, insonnia, dorme soltanto se assume ipnoinducenti e dorme comunque soltanto per quattro o cinque ore. So, let me pull up the report. Adesso, quindi vi mostro il report. Now, before we look into the report. Quindi, prima di immergerci nel report. Obviously, the combination of the HIV infection with the treatment against this infection. Allora, l'abbinamento dell'infezione HIV e la terapia per, appunto, curare l'HIV. Obviously, is a massive influence on the immune regulation, both from the infection and from the treatment. Chiaramente ha un impatto enorme sulla regolazione immunitaria, sia per l'infezione virale in quanto tale, sia per le terapie che combattono questa infezione virale. Chiaramente non può quindi sorprenderci l'impatto sull'apparato intestinale, anzi, era anche prevedibile. Quindi, non ho ancora visto il report, ma sono curioso di vedere quali possono essere i fattori che il report evidenzia per poter aiutare questo paziente. So, the influence factor, those influence factor here, by priority, are fatty acids. Quindi, quelli che vengono, quelli che emergono in senso prioritario sono gli acidi grassi, al primo posto. Vitamins and parasites. Al secondo posto abbiamo le vitamine, al terzo i parassiti. Food factors and toxins, or environmental factors. Poi ci sono gli alimenti e poi ci sono le sfide ambientali. If you look at this picture from a meta perspective, obviously there is a blockage in many fields. Allora, se noi guardiamo questo quadro e questa immagine da una posizione di distanza, vediamo che chiaramente ci sono molti ambiti che sono coinvolti, che hanno un impatto. And at the same time, if you look at the pie chart, obviously other fields would not have the same impact in use. Se guardiamo la torta anche, vediamo che ci sono altri ambiti, no? Che sono evidenziati, che potrebbero avere un ruolo importante. This is what I love about making things visible. That's why the pie chart is in there. Ed è questo che mi piace del report, cioè il rendere tutto facilmente visibile, grazie per esempio al diagramma torta. Perché appunto la tabella in basso chiaramente ci dà l'elenco dei vari ambiti, dei campi, ma la torta ci dà un'immagine veramente particolare. In quanto la torta ci dà appunto le relazioni, quindi tra un fattore e l'altro. È una visione d'insieme anche. So, except if you want to induce certain effects, you can pretty much leave away those small ones, like minerals, antioxidants, etc. A merchè non vogliamo andare subito nei dettagli, possiamo eliminare temporaneamente quei fattori che sono meno importanti, quelle fette, quegli spicchi che sono più piccoli. E quindi, dal punto di vista meta, possiamo vedere quali sono, quindi da una prospettiva meta, possiamo vedere quali sono i fattori dominanti che hanno un impatto. The stress system, il sistema stress, emotions, quindi le emozioni, lo stato emotivo. The cardiovascular situation in the cardiovascular system. Il sistema cardiovascolare. And the status of the musculoskeletal system. E il sistema musculoskeletrico. Now, obviously, this person has a dramatic influence on its own health through the emotional and or stress axis. Chiaramente, lo stato di salute di questo paziente subisce un effetto molto importante che deriva da lui stesso, cioè dal suo stato emotivo. So, we can, now, either, as a therapist, you can decide now, either I just go with the suggestions here given in the report. Quindi, come terapeuta, io qui posso prendere una decisione. O seguo le linee guida che mi vengono date e che emergono dal report. Which is fine. You could just stop here. Che va bene. Potremmo fare anche soltanto quello. E anche se vi venissero fatte domande, perché dovrei prendere vitamina B9, si potrebbe semplicemente e banalmente rispondere perché questo è emerso dal report. Or, we go a few steps beyond and really start to question why would that be in there and what could that be a possible indication for. Quindi, questa è una prima opzione. Oppure, invece, possiamo andare dietro alle quinte e cominciarci a porre la domanda perché. Perché questi elementi, queste linee guida emergono da questo report. Che cosa c'è dietro? Now, this person, this person, obviously, has also an inflammatory focus. Anche questo paziente presenta un quadro infiammatorio importante. Excuse me. And so, therefore, listing specific omega-6, omega-9 elements. Quindi, per esempio, elencati qui abbiamo elementi come l'omega-6, l'omega-9. Help to alleviate that situation. Questi ci permettono di alleviare quella situazione. Now, let's read through the vitamins. Quindi, andiamo a vedere l'elenco delle vitamine. Vitamin B9, which is folic acid. L'acido folico, vitamina B9, vedete, è il primo dell'elenco. Is not only important in terms of the blood vessels and to, in relation to homocysteine. Ebbene, la vitamina B9 non è soltanto importante per il sistema vasocircolatorio, ma anche per l'omocysteina. E, inoltre, la vitamina B9 aiuta, insieme alla vitamina B12, a ridurre lo stress nitrossativo. La vitamina B9 è utile e aiuta tantissimo per quanto riguarda le articolazioni. Since musculoskeletal system is listed here. Visto che c'era come prioritario il sistema muscoloscheletrico. But it's also a helper to catch free radicals. Ma è anche molto utile per catturare i radicali liberi. Vitamin A1 is a general helper for the mucous membranes, wherever in the body. La vitamina A1 è molto importante per aiutare nell'ambito delle mucose, delle membrane. And vitamin B6 is a helper, which has many functions, but one of them is for the nerves. E la vitamina B6 ha tante funzioni, ma è molto utile per il sistema nervoso. Which might then have a balancing function in terms of the person's emotions. Che appunto è un fattore importante nel ribilanciare lo stato emotivo. So, whenever there's a disbalance in the immune system, obviously the gate is open for other parasites to just come in. Quindi quando c'è uno squilibrio appunto nel sistema immunitario, chiaramente si aprono le porte per l'arrivo e l'ingresso dei parassiti. Per questo è importante colmare quel, come dire, tamponare quel buco che c'è nel sistema immunitario. Perché assolutamente, se permane quella condizione, è come lasciare le finestre e le porte aperte, chiunque può entrare. Perché a quel punto il sistema immunitario è perennemente impegnato a difendersi dagli attacchi e da tutti questi invasori. Fra poco arriveremo agli alimenti. Allora, io questo lo ripeto sempre, ma qui voglio ribadirlo ancora una volta. Quando noi leggiamo nel report riferimento a radiazioni, qui non ci si riferisce a frequenze radioattive. It can also be through natural influences, for example, radon gas in certain places. Può essere un riferimento invece, per esempio al gas radon, quindi a fenomeni naturali che si manifestano in condizioni, in certe condizioni ambientali. Ma molto spesso queste radiazioni si riferiscono a le condizioni ambientali, geopatiche, in cui l'individuo soggiorna e vive. Quindi adesso passiamo alla tabella relativa alle limitazioni alimentari. These are food elements you should try to emit for 90 days. Ecco, questo elenco di solito ci dà quelli sono gli alimenti che bisogna eliminare per 90 giorni. Avena would be one example, where aspergillus often plays a role, and so that carries those spores. I hear you. You can hear me. I didn't hear you at all. Yes. You froze. You froze. Yes. Okay, thank you. Can you please repeat it again from aspergillus? Absolutely. Avena and aspergillus. Yes, okay. So avena, for example, can be, if it's not properly treated, can be a carrier for aspergillus. Allora, quindi il riferimento era all'avena che viene qui elencato. Spesso può essere un trasmettitore dell'aspergillus. These nutrition, or these foods here, they reduce the energy, the energy system of that person by consuming them. Quindi gli alimenti qui elencati sono quegli alimenti che riducono il sistema energetico del paziente, di quella persona. Per questo si consiglia di eliminarli, letteralmente, per i prossimi 90 giorni, perché portano via energia, anziché essere un apporto di energia. So, looking at the influence on the, or looking at the status of the, or the needs of the immune system. Quindi adesso passiamo a quello che fa bisogno del sistema immunitario. With 92, this is also a very high value. Qui abbiamo in basso il valore totale di 92, che anche questo è un valore elevato. Andando ad esaminare i singoli fattori che hanno un'influenza positiva sul valore totale. With 23 and 20, those are the two categories, foods and parasites. Con il valore di 23 e 20, abbiamo le due categorie, appunto, che hanno l'impatto maggiore. E sono gli alimenti e i parassiti. So, I think this is a super tool to just see, okay, what sort of influence is there on the immune system? And where do I have the best leverage to change the situation? Quindi, questo, vedete, è uno strumento straordinario, che ci dice esattamente, così a prima vista, quali sono i fattori che impattano di più sul sistema immunitario e quindi ci dà le linee guida per poter intervenire. Come vedete, perché dico che è uno strumento straordinario? Perché qualunque altro approccio non sarebbe la stessa cosa. Qui ci vengono date delle indicazioni su dove andare. This is how you can focus your therapy. Perché è grazie a questo che ci è permesso di focalizzarci, quindi portare e concentrare l'attenzione su dove andare. Lo stesso vale per i fattori che influenzano l'apparato intestinale. Qui chiaramente, vedete, vengono evidenziati quali sono le categorie e i fattori su cui concentrare e portare la nostra attenzione nella fase terapeutica. Ebbene, questo completa, se vogliamo, o ci dà tutte le indicazioni per il quadro generale. È chiaro che l'infezione, l'HIV, scusate, chiaramente contribuisce a peggiorare lo stato immunitario del paziente. Lo stesso ha un impatto notevole anche la terapia per combattere l'HIV, quindi la terapia antivirale ha lo stesso effetto della malattia. Quindi per questo è opportuno orientarci verso quelli che sono i fattori di supporto e per questo l'HIV è di grande aiuto. A questo punto si possono aggiungere anche altri fattori. E per questo potete rivolgervi ancora una volta a Giorgio per i vari elementi che ci sono a disposizione per questo tipo di terapie. Per esempio il fame, che contribuisce a migliorare l'insieme del sistema metabolico. Perché? Perché contiene la metionina che è un donatore dei gruppi metilici. E questo è solo un esempio. E ci sono altri esempi di fattori che sostengono il sistema immunitario che possiamo aggiungere al quadro terapeutico integratori. E questo credo che completi il quadro, di quali sono gli elementi dove indirizzare la nostra attenzione. Allora, se desiderate adesso, Giorgio, le chiedo se c'è tempo per delle domande. Possiamo fare una sessione di domande e risposte. Assolutamente sì. Se tutte le domande che volete. Assolutamente sì. Sia via, se volete scrivete via e-mail oppure vi attiviamo il microfono. Se volete poter intervenire se volete fare domande. Siete benvenuti. Volete approfondire curiosità? Approfintitene. Volevo altresì ricordarvi questo grande evento, per chi ancora non era collegato, 2, 3, 4 febbraio a Bologna. Marcus, tutti insieme. So, there's a meeting on the 2nd, 3rd, and the 4th of February, Marcus, of course, you're invited to the implication in Bologna. Oh, Ed, you've taken the early date? Yes. Okay, so not the 20th. Okay, uh-huh, okay. Good, so, um, fine. Uh, again, you can, maybe, uh, Giorgio, you can, you can open, uh, you can open the mic, maybe? Sì, sì. Giorgio, vuole aprire il microfono. Sì, l'ho già aperto a tutti, se qualcuno vuole puoi intervenire. So, the microphones are all open, whoever wants to take the microphone, ma... There's a, there's a, a, a written, uh, um, written question, um, in the chat. C'è una domanda che è arrivata, eh, è riscritto sulla chat. L'ho vista e gli rispondo subito. Giorgio is going to answer this question. Yes. Questa è la smart card. Questa è la smart card che è collegata a questo collare. Questo è il collare che ha presentato Ian. Questo è un porta card e questo è il collare. E, eh, questo collare è straordinario. Io ho avuto modo di testarlo ormai da, 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 da settembre. E vi assicuro che è come centratura e anche stanchezza quotidiana, ma anche quando sono davanti al computer, quando lavoro, eh, col telefonino, che ormai, eh, non ne posso più. E, eh, il, eh, comunque questo, eh, questo collare è veramente straordinario, anche proprio come ti senti, ti senti meglio, insomma. Come, poi questa card viene, adesso stiamo facendo qualche studio. Io, eh, so che Cinzia, non so se è collegata, eh, lo sta utilizzando anche con gli animali, eh, stanno vedendo degli ottimi risultati. La mettono addirittura sotto, eh, la cuccia del cane, o la racculla, insomma, del cane. E, eh, sembra che stia dando ottimi risultati. Voi sapete che, purtroppo, i cani, eh, non possono solo subire, come i gatti che stanno in casa, subire continui danni da, da interferenze da campi elettromagnetici, wifi, eccetera. Quindi è un'altra grande possibilità di caricare l'acqua che bevono con la smart card e quindi aiutare. Cosa consigliate per la disintossicazione delle varie specie di aspergillus spore? So, this question concerns what you suggest, Marcus, for a detox from the various species of aspergillus and spores. How can we manage, also, the presence of alpha-toxin? Your microphone is switched off, Marcus, your mic. Yes, I'm sorry. It's alpha-toxin. So, alpha-toxin is produced by aspergillus. And I will write in the chat what is to be used. The one is... Oh, prima che mi fango male alle gambe, basta. Ok, quindi stiamo parlando dell'aflatossina, che appunto alimenta e produce l'aspergillus. Io adesso rispondo a questa domanda sulla chat stessa. La prima cosa da usare è il Fortakil. And that is a specific product from Penicillium... Wait a second. Rock. It is produced from that. That's the Penicillium fungus that produces Rockford cheese. Quindi, se vogliamo, l'enzima della penicillina che produce il formaggio Rockford. Ecco, è questa la sostanza. The other thing is to be used... Is... This Naya Tripudians, which is... It's a homeopathic from a cobra venom. Allora, questo Naya Tripudians, in composizione D6, è un rimedio homeopatico che è derivato dal veleno, il veleno del cobra. This is being used because the aspergillus surrounds itself with sort of a mucus-like substance to... For the immune system not to be able to penetrate. Allora, questo perché? Perché l'aspergillus si circonda di una sorta di mucosa che impedisce al sistema immunitario di difendersi. And by building like a nest, typically in the lungs, where it persists. E costruisce, il meccanismo è questo. Cioè, costruisce una sorta di nido nei polmoni dove persiste e si protegge attraverso quel meccanismo della mucosa che citavo prima. Some people also have those kind of nests in the teeth, in the gums. E molte persone sono affette o si producono in molte persone questi nidi anche a livello delle gengive. And actually they can be noticed in the x-ray. Che, peraltro, compaiono anche nelle lastre. The point is that NIA sort of liquefies this protective mucus and then the photokale can address it. Quindi il meccanismo della terapia è questo, che il NIA, questo rimedio omiopatico, fa liquefare appunto la mucosa e permette quindi poi a quell'altra sostanza, il Fortekel, di penetrare. Allora, poi c'è un altro prodotto che è stato concepito... da parte del professor Steidl, che si chiama Rizzol-Z, ed è un olio ozonizzante. Quindi un olio ozonizzante che si chiama Rizzol-Z, che è stato sviluppato dal professor Steidl. Ebbene, che cosa fanno? Sono degli oli eterici che aggrediscono i parassiti, attaccano i parassiti in una certa maniera. Ok, questi sono solo esempi di come trattare l'aspergillus. E trattando l'aspergillus, chiaramente si riduce la produzione appunto dell'aflatossina. C'è ancora una domanda sui parassiti, viene credo da Vincenzo. La risposta è dipende di quali parassiti parliamo. Questo è stato un esempio per l'aspergillus. Quindi abbiamo dato quell'esempio per quanto riguarda l'aspergillus. A quali altri parassiti si riferisce, Vincenzo? Se per esempio consideriamo Cadia Lamblia, Per esempio possiamo usare la Gladia Lambia, possiamo usare l'artemisinina, artemisinina. Sì. Dependendo, really depending on what the issue is, if you have viruses like the Epstein-Barr, which I mentioned before, you would use microimmunotherapy. Per esempio, se avessimo un virus come per esempio l'Epstein-Barr, potremmo utilizzare... What could you use? Sorry, repeat that word. Microimmunotherapy. Potremmo usare la microimmunoterapia. If you have bacteria, there's nothing to say against using antibiotics if it's sensible and if it's ones that actually work. Allora, se invece fosse un'infezione batterica, non ci sarebbe nulla di contrario nel somministrare antibiotici, purché siano l'antibiotico giusto, mirato per quel batterio. I personally actually prefer to use rather old antibiotics because they are somewhat better tolerable than many of the new ones. I will again write that in the chat now. Basically, there are two antibiotics which actually work really well, and that is... Ci sono due antibiotici che in effetti funzionano, sono molto efficaci. Adesso li scrivo sulla chat. So, that's the one. So, la moxicillina insieme all'acido clavular, che sarebbe, credo, il nome, il brand è Amoxiclub. Yeah, that's the combination of the two, and that works really well for anything towards streptococcus, meaning non-pews-producing inflammatory processes in the body. E appunto, che mette insieme i due, l'Amoxiclav mette insieme i due composti e funziona in particolar modo bene per lo streptococcus, no, perché impedisce la produzione di pus. Per esempio, la clandamizzina potrebbe essere appropriata per qualsiasi situazione in cui c'è produzione di pus. So, that would be the bacterial side. Of course, you can also have holistic elements to treat that. There are different ones. But that would really, I would have to know which one you talk about to then say, okay, you can use these as alternatives, possibly. Questo vale per quanto riguarda i batteri. Ora, chiaramente, ci potrebbe essere una terapia in un approccio più holistico che utilizza certi elementi più holistici, ma per poter rispondere a questa domanda a quel punto dovrei sapere specificamente di quali batteri parliamo. If you remember that the pathogen is nothing, but the milieu is everything. Ricorderete che il patogeno non è nulla. Quello che conta è l'ambiente in cui vive il patogeno. It's always important to close the gaps in the immune regulation so then the body solves most things then. L'obiettivo è sempre quello di chiudere le porte, no? Entro le quali si entra nel sistema immunoregolatorio. Perché chiudendo questi varchi, allora si può agire. Quindi è chiaro che bisogna trattare l'infezione, trattare contro i parassiti, però possiamo fare una terapia contro il parassita A, poi facciamo una terapia antibiotica contro il battere B, bla bla bla. Però alla fine continuano a manifestarsi altre infezioni che si ripetono. Invece la prima cosa da fare è quello di chiudere il varco che porta l'accesso al sistema che regola il sistema immunitario. Ok, Mike, there's the next question by Vincenzo. Vincenzo chiede ancora un'altra domanda. Bisogna fare prima indagini parasitologiche e poi fare terapia? No, no. No, no, no. The question is, is it necessary to conduct a survey, in other words, a test of the parasites and then thereafter provide the therapy? Is that correct? the same and is the same true for bacteria? Yes, that is sensible. Questo è logico. Yeah, if it is an important factor, of course it is sensible to look behind the scenes then. Yeah, absolutely. Certo, assolutamente sì. Sì, assolutamente. Se il fattore è quello, bisogna andare dietro le quinte e andare ad esaminare il processo. in corso. Okay, and Simone also has a question. C'è un'altra domanda, la parte di Simone. In order to detox from chemical substances and hydrocarbons without using infusion therapy, do you have any suggestions? Yes and no. First of all, the field is big, but... La risposta è sì e no. Innanzitutto, questo è un campo, un campo molto, molto vasto. The point is, the body can do a whole lot of things. It can only... The problem is only if it gets too much at once. Allora, l'organismo è in grado di fare tante, tante cose. Però, il punto da tenere in considerazione è questo. se viene questo organismo sovraffatto tutto ad un tratto, quindi sovraccaricato. So, then, if I might not exactly know what the substance is, I will still do a detoxification and then reduce the overall load. Quindi, per esempio, posso anche non conoscere qual è la sostanza intossicante, quel battere, quindi il parasita, questo e quell'altro. Ma se io opero una disintossicazione profonda, a questo punto riduco il carico per cominciare. Per esempio, l'espressione è massa critica. Noi possiamo utilizzarla sia in maniera positiva che in maniera negativa. If you use it in a negative way, the critical mass is the one to reach and then the whole system goes ajar. Praticamente, se il concetto di massa critica è usata nell'accezione negativa chiaramente se fa un qualcosa che ha un impatto a questo punto va tutto a carte 48, come si dice. Or you can use it in a positive way by saying if you reach a detoxification to a critical mass then the overload is gone and the body can take over again. Se invece lo usiamo il concetto di massa critica in maniera positiva possiamo dire ok, se il processo di disintossicazione porta appunto l'intossicazione a un livello la riduce a un livello in cui la massa critica diventa appunto positiva a quel punto siamo nel punto giusto per avviare una terapia che sarà più efficace. Io non sono una persona che aderisce perissequamente ai protocolli standard. Adatto la terapia adatto la terapia al singolo paziente. Se prendiamo la detoxification per una certa persona un composto chimico potrebbe essere la scuola. per esempio se pensiamo a una disintossicazione per una persona in particolare un elemento una sostanza molto forte potrebbe essere la scelta giusta da fare. For another person a composition of certain nutrients can support the detoxification process. Invece per un'altra persona per esempio una composizione di elementi nutritizi potrebbe essere la soluzione per quel processo di disintossicazione. For another person using natural adsorbers is the best choice. Per un'altra sarà giusto invece usare assorbenti naturali. per un'altra persona behind the scenes you have a genetical polimorfism meaning they are have problems detoxifying so then you need other workarounds. Per altre persone ci può essere per esempio una questione di polimorfismo che sta dietro le quinte allora in quel caso per esempio il processo di disintossicazione non è adeguato secondo certi canoni. And other people which might be for example hoarders in their apartment you know like messians or collecting a whole lot of stuff those people some of these people also don't let anything ever go so they actually hold the toxins in their body and not letting them go. ci sono persone che hanno un carattere predisposto per esempio all'accaparrare l'accaparrazione quelle persone che portano tutto in casa cianfrusagli di ogni genere ebbene quelle persone hanno talvolta può essere che anche nell'organismo ci sia questa tendenza ad accaparrare accaparrare e non rilasciare mai non lasciare andare via mai in that situation as long as the emotional state is upheld then you don't get very far se per esempio abbiamo persone di questo genere in cui viene mantenuto quello stato emotivo chiaramente il processo di disintossicazione che è efficace in un paziente in quel paziente non porta a nessun risultato so those are just a few examples out of many possible constellations and that is why I work so individual questi sono soltanto alcuni esempi delle tante possibili costellazioni per questo ribadisco sempre che io lavoro sul singolo e tutto è tarato per quell'individuo quella persona in quel momento quindi vi chiedo scusa per il fatto che io rispondo in maniera così in senso lato a domande di questo genere perché io dico portatemi la persona il paziente e vi risponderò specificamente con riferimento a quello che io vedo essere il fabbisogno e l'eventuale terapia per quel paziente most often the choice is actually very natural in what you use but again it has to fit ma infatti molto spesso la risposta su come fare il trattamento emerge naturalmente ok ok so I think not to overstress it and so Giorgio goes to bed and so he doesn't take talk nonsense tomorrow Giorgio avanti si si I said it's about time to go to bed for you so you don't talk nonsense tomorrow allora dice che sarebbe giunto il momento di mandare Giorgio a dormire perché altrimenti domani magari non riesce adesso do la parola al fattore voglio dirvi questo no oggi sono particolarmente felice come dicevo all'inizio perché mio nipote si è laureato in medicina 110 e lode 10 e lode e lode 110 e lode ho assistito alla sua laurea alla sua presentazione della tesi bellissima Giorgio's nephew graduated in medicine with full marks and flying colors super Federico qualità anche tu tutti e tre voglio vedervi si va a chiusare noi abbiamo da lì salvatore dimmi vedete i microfoni come si sa come si sa ragazze eh vai allora quando hai parlato di radiazioni ambientali geopatiche volevo intendere che in una situazione geopatiche si ne ha parlato ne ho parlato quindi bisogna fare un'indagine all'interno della camera da letto per individuare i nodi alla rete di Artman so does that mean that then you have to conduct an investigation in the home and where the person lives to identify Artman's effects yes so then I would either ask the ask a help of what we call a building biologist that's the German word for it a building biologist allora sì io chiederei l'assistenza e la consulenza di quello che noi in Germania chiamiamo il biologo dell'edilizia bioarchitetto yeah and yes ok sorry that was spanish in questo caso io utilizzo un soto c'ho una trapunta per bloccare le influenze elettromagnetiche funzionano secondo te queste trapuntine scusa metalliche volevo dire una storia a metal blanket he uses to protect against these radio or radiation frequencies yeah well the point is the more the stronger you are on the inside the less susceptible you get to these frequencies now obviously for some that carry more antennas on their head than others like you or me or a few others yeah obviously there's more to that than just the inner strength because you have a large amount of sensitivity okay in a positive way yeah because we have more sensitivity in a positive but for most people for most people that might not use those antennas still the most important factor is to be fortified on the inside and to be fortified in their bio information field per molte persone che non portano queste antenne di sensibilità sulla testa come illustravo come a modo di metafora è importante che siano forti dentro e che poi abbiano una fascia protettiva che li circonda dal punto di vista delle bio informazioni and so this is why the s drive report helps to close these gaps in the information field per questo l'S drive ci aiuta a chiudere questi varchi che esistono nel campo bio informativo and or also using the smart card like georgia showed before and you know the lanyard whatever then also to support the system and to to help in fortifying e lo stesso si possono usare per esempio la smart card oppure il collare come ci ha illustrato prima giorgio strumenti che permettono di supportare fortificare il sistema and what you said about the protective blanket for example those can all be measures that help to reduce the influence on the outside è lo stesso quello che diceva lei per quanto riguarda l'uso di quella trapunta di cui parlava che sono sistemi che possono permettere di proteggerci e proteggere la parte interna di noi but often actually the situation is even solved even with changing the bed place or changing the place where you typically are in your apartment often that is enough already ma molto spesso è sufficiente semplicemente cambiare la posizione del letto o cambiare il luogo della casa che noi frequentiamo cioè dove stiamo in casa più tempo ok thank you perfect good work good work thank you grazie voglio solo dire due cose su questo aspetto mi sono avvicinato all all'ambiente insomma come diceva salvatore giustamente sulla bioarchitettura indagini da circa 24 25 anni perché mi sono occupato anche di microclima ionizzazione dell'aria per esempio che viene molto sottovalutato la qualità della ionizzazione dell'aria mike si so giorgio is saying that he's been indulging and studying these issues of bioarchitecture and ionization of the air for instance in environments he's been studying these things for quite a while and he wanted to make a point on this yes absolutely volevo anche dire che spesso quando parlava mike di radiazione radon ecco fate molta attenzione quando avete radiazione se vivono nelle case con il tuffo se vivono nel al primo piano lavorano in scantinati e respira vivono in zone sismiche oppure sono stati in quelle zone perché le radiazioni si sommano e quindi è importante fare molta attenzione a questo aspetto se vi può essere utile il self gocce viene utilizzato dai bambini di cernobyl e da fukushima per eliminare le radiazioni nucleari perché ha questa grande capacità non solo di fare un azione antiossidante ossigeno eccetera ma proprio la sua capacità di liberare idrogeno grazie al solfato di deuterio di modulare e quindi limitare proteggere dalle radiazioni quindi il self gocce è veramente un prodotto straordinario come attivazione sia mitocondriale ma di protezione ecco se può esservi utile vi lancio questa dritta se vorrete coglierla giorgio 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 grazie di cuore grazie di cuore grazie di cuore per questo tuo innesimo grande supporto e direi marcus che ti auguriamo buon natale e buon anno ah ok 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 i think you will hear of me before christmas i'm pretty sure così presto assolutamente non mi dimenticherò di te e mi sentirai ancora prima di natale giorgio ecco se vorrai darci un aiuto in questi giorni se avrai tempo sei sempre benvenuto e nel frattempo you're always welcome if you want to join us again absolutely and i i would just like to say to the round i just thoroughly enjoy and embrace uh the amount of interest and exchange and um enchantment um that's happening here i this is very very special of course also due to papa giorgio but bringing all these people together in one as one famiglia voglio esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento per questa famiglia che papà giorgio mette insieme e che ci fa riunire e devo esprimere altrettanto il mio piacere entusiasmo per questo scambio di idee che avvengono in questo contesto sono veramente grato di questo grazie and thank you mike for making this awesome translation possible that's a big help for everyone thank you marcus thank you very much grazie un privilegio per qualsiasi cosa mandatemi un email che vi giro tutto quello che mi avete chiesto informazioni approfondimenti buonanotte abbiate come di voi ciao ciao a tutti ciao a tutti